Chiusa la prima edizione del Festival Futuro Anteriore di Andrea, soddisfatti gli organizzatori. Nel nostro servizio il bilancio del direttore artistico e lo scrittore Paolo Di Paolo con il suo nuovo lavoro. Vediamo. Cinque giorni, venticinque eventi, sette luoghi, dieci partner, millequattrocento tra studenti e studentesse, dieci volontari con diverse abilità, 40 ore di spettacoli e di intrattenimento. Tutto questo è stato il Festival Futuro Anteriore di Andrea, musica, letteratura, teatro, dibattiti, seminario, metaverso. Un festival, la sua prima edizione, che ha voluto parlare di futuro, sebbene il momento storico sia molto complicato e incerto. Il festival è nato in pochissimo tempo e nonostante ciò sta camminando verso il futuro a gambe elevate, si può dire, e siamo molto contenti. Questo è un festival che più che ragionare di futuro, ragiona di presente, perché il futuro anteriore è ciò che succede nel frattempo che un qualunque futuro si verifichi. Ed in effetti il futuro è totalmente inafferrabile, anche gli eventi di questi giorni, la guerra in corso, era totalmente inimmaginabile, come prima ancora lo era stata la pandemia, prima della pandemia nessuno se lo sarebbe mai immaginato. E quindi ci è venuto in mente che l'unica cosa sensata da fare è parlare di ciò che accade nel presente e su quali sono le possibilità del presente di incidere sul futuro. Tra gli eventi di punta l'intervento del noto scrittore Paolo Di Paolo, con il suo ultimo lavoro Svegliarsi negli anni 20, dove tra futuristi e futurocrati, feste dell'età del jazz e odierni aperitivi, tra esplosioni di rabbia sociale e intelligenze artificiali, le storie e le domande rimbalzano da un secolo all'altro. Ci dicono tutta l'ansia e la meraviglia di svegliarsi negli anni 20, un secolo fa, una guerra mondiale e una grande epidemia alle spalle. Ed ora il 2000, con un'epidemia da Covid e una guerra. Paolo Di Paolo ci conduce in una sorta di corridoio spazio-temporale tra due secoli, in compagnia di scrittori e artisti che hanno colto lo spirito e le inquietudini del tempo e gli istanti in cui si intravede la nascita del futuro o gli ultimi bagliori di un mondo che tramonta. A volte i confronti tra momenti diversi della storia possono portare anche fuori strada, non è detto che le cose si ripetano in modo uguale, evidentemente. Però talvolta ci sono delle assonanze, degli echi, dei presagi, tutto si mescola e nel caso specifico di questo inizio di anni 20 c'è una turbolenza che è molto assimilabile alla turbolenza degli anni 20 del secolo scorso. Questo per dire che non cambia, come dire, non c'è nulla che cambia e che tutto ritorna? Tutto in qualche modo ritorna, certo ritorna con un'area del tempo completamente diversa, però la dinamica per esempio di una guerra o di una pandemia evidentemente fa esplodere emotivamente la società, l'umanità ed è interessante andare a vedere più che il confronto in senso diretto il materiale emotivo che hanno prodotto certi traumi. Quindi ho cercato di mettere in relazione scrittori, artisti degli anni 20 dell'altro secolo al racconto che viene fatto, che stiamo in qualche modo facendo in questo momento.